Katia, il processo ha sentenziato l'ergastolo per Gerage. Come è andata ieri la giornata? Una giornata un po' pesante. Diciamo che il verdetto è uscito intorno alle 4 e mezza. Un ergastolo a vita intera, senza... avevamo chiesto degli aggravanti, perché noi avevamo chiesto anche la premeditazione, avevamo chiesto anche un isolamento diurno a 18 mesi. Questo non è stato accettato all'isolamento, però l'ergastolo c'è stato tutto con la premeditazione, con la crudeltà. Non è stato accettato i punti o gli motivi perché lui ha dichiarato dall'inizio che si sentiva spiato. Quindi c'è un motivo per cui il Gerage l'ha ucciso. Lui temeva per la sua vita, cosa che non era assolutamente vera. Oggi è il compleanno di Giuseppe? Giuseppe oggi avrebbe fatto 20 anni, ma ne avrà per sempre 18. Non è riuscito nemmeno ad aprire le sue ali, a decollare nella vita. Però è stato un ragazzo che, per quello che ha vissuto, per quello che ha lasciato in giro, è stato un ragazzo che ha vissuto a pieno la sua vita, un ragazzo pieno di valori, che non ha lasciato nulla. Ha ballato, ha lavorato, ha studiato, è stato vicino alla famiglia, ha avuto delle responsabilità nei confronti dei fratellini. Un ragazzo che ha amato con esso, un ragazzo che comunque quelle poche cose che ha fatte, le ha fatte bene, le ha fatte con dignità. Quindi con questa sentenza possiamo dire si chiude il caso. Diciamo di sì, poi ci sarà l'appello, ma noi ci presenteremo e chiederemo, continueremo a chiedere l'ergastolo, vediamo un attimo cosa sarà depositato, perché ci sono dei tempi stabiliti, che mi sembra che siano 60 giorni. E poi se andremo in Cassazione, se ce ne sarà bisogno, ci ripresenteremo in Cassazione. Però io volevo dedicare questa vittoria a tutta la città, a tutta l'Italia, perché è giusto, perché tutti mi sono stati vicino, tutti hanno pianto, mi hanno sostenuto, mi hanno scritto. Quindi la vittoria di Giuseppe è di tutti e di tutti i vostri figli, del futuro dei vostri figli.